Pulse Giovinco Va via Giovinco Ancora Giovinco, grande la sua girata Giovinco, mette in mezzo Amaurino riesce a toccare sotto porta E Gile la fa sua, grande azione di Giovinco Si è entrato fresco e qui 2 contro 1 li ha saltati con grande facilità, la palla sul primo palo ancora una volta tenta la retroguardia qui a Gile in anticipo Camatà prova a liberarsi fermato da Poulsen ma ormai c'è quasi solo recupero per la Juventus che è sotto di due gol, ancora Caceres che ha spinto veramente tantissimo Giovinco, prova a liberarsi, Giovinco con il destro Gile un po' per i fotografi Si è vero, però Giovinco bene, ancora una volta vedi questo movimento in contro, lui parte da sinistra poi con il destro a rientrare facile